Assolutamente, tra l'altro mi viene da dire una cosa ascoltandoti, che poi probabilmente potrà essere anche uno spunto per farci una puntata di approfondimento, quando guardiamo determinate persone, determinati, possiamo chiamarli influencer, che hanno determinati numeri, non solo nel campo della psicologia, anche in altri campi, quelle che vediamo poi come metriche che possiamo prendere in considerazione sono quelle che noi chiamiamo vanity metrics, sono quelle metriche, i follower, il numero di mi piace, che servono un po' da specchio delle allodole, quello che noi dobbiamo considerare per avere un ritorno sull'investimento importante e quante persone poi ci contattano, quante persone poi entrano veramente in relazione con noi, quante persone ci sostengono sia a livello economico, sia a livello di community e quante persone poi convertono, dove per conversione noi intendiamo proprio quante persone fanno quell'azione che noi vogliamo che quelle persone facciano, quindi quante persone ci chiedono un preventivo, tra virgolette, o comunque ci chiedono di poter fare un percorso con noi, quante persone ci chiedono di fare il primo colloquio, eccetera, eccetera. A quel punto non mi servono dei numeri stratosferici, perché io potrei avere dei numeri stratosferici, ma sono tutte persone che poi alla fine non convertono. Mi basta avere una community di persone interessate e a quel punto il percorso che per esempio fa Giovanni o che fanno anche altre persone che ho già intervistato, di, diciamo, tra virgolette, a imbuto, dove io vado a cercare proprio le persone interessate e mi serve, e alla fine io ho veramente quelli che sono super interessati e che poi convertono. A quel punto sì che io ho una community di un certo tipo e lì sì che ho raggiunto il mio obiettivo, se il mio obiettivo è lavorare con i contenuti e non solo, diciamo, fare da, appunto, specchio delle allodole. Questa mi sembrava una precisazione importante da fare, dove poi se le persone sono interessate ci farò sicuramente una puntata di approfondimento.